Una nave nemica si è appena schiantata sulla stazione. Alcuni ribelli sono sopravvissuti. Cercheranno di sabotarci e di fuggire dalla mossa nera. I nemici devono essere contenuti ed eliminati. Intercettate i ribelli al generatore e alla stazione di controllo del raggio traele. E difendete queste zone. Li troverete lì, statene certi. Energia alle armi facolti! Ecco le armi! Avanzi! E compro io! Armi pesanti pronte! Via, via! Con Lord Vader abbiamo la vittoria in pugno. Ribelli al generatore! Lo spengono! Qui ci penso io! Lord Palpatine ci onora con la sua presenza. C'è un comandante rivale non identificato! E' un'envoa! E' un'envoa! E' un'envoa! E' un'envoa! Stazione di controllo del raggio traente sotto attacco. Voglio rinforzi in quella posizione. Il comando ci ha mandato un alleato. Sta arrivando. Sono finiti. Settore sicuro e via di fuga intervento.